Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati un'altra volta in compagnia quest'oggi di EvoSmart. Sì, non so se ve ne siete accorti, ma il banner è cambiato, è cambiato il nome al canale YouTube. Vabbè, è chiaro, come vi avete detto in tantissimi, per noi sarà sempre il nostro Werz, ovviamente non cambia la filosofia del canale, ma cambia la news di oggi. Siccome è una news in anteprima perché oggi è il 5 di maggio e questi telefoni saranno venduti dal 7 di maggio, non mi perdono ulteriori chiacchiere, quest'oggi abbiamo addirittura anche la sigla e quindi ci sentiamo subito dopo la nostra sigla. Ebbene sì ragazzi, notizia freschissima. Dopo l'arrivo di Xiaomi Mi Mix 2 nei punti vendita 3 dal lunedì 7 di maggio, potete trovare anche Xiaomi Redmi 5 Plus. Ovviamente i prezzi saranno diversi, sarà possibile effettuare un abbonamento di 30 mesi, troverete qua sotto il link al nostro sito dove troverete tutti i prezzi di questo prodotto, quindi del Redmi 5 Plus. Potete acquistarlo sia con l'abbonamento Play 15, sia con l'All in Prime, l'All in Master o l'All in Power, comunque qua sotto troverete tutti i riferimenti del caso nel link in descrizione. Le domande che mi avete chiesto nel video precedente, quindi vado un pochino a eliminare alcuni dubbi. Guerza, abbiamo capito che sarà possibile acquistarlo nel negozio 3, ma sono con banda 20? Sì ragazzi, i dispositivi che troverete negli store 3 sono Global Version, quindi abbiamo la banda 20 pienamente supportata. Non vi preoccupate, quindi non c'è problemi di calo di segnale. Sono prodotti ufficiali, con banda 20, dual SIM, insomma ci sono tutte le caratteristiche possibili che troverete chiaramente poi nei vostri negozi, andate nei negozi 3 e vi spiegheranno il tutto. Altra domanda che mi avete fatto, è possibile acquistare questi dispositivi con un conto corrente? Sia per quanto riguarda lo Xiaomi Mix 2, sia per quanto riguarda Redmi 5 Plus, sarà tranquillamente possibile acquistare due dispositivi con le due formule di pagamento, quindi o carta di credito o IBAN, quindi conto corrente bancario. Non cambia l'impegno, quindi il vincolo che è sempre di 30 mesi. Questo è solo un video di news, un video veloce perché vogliamo completare la news sul sito, quindi su evosmart.it troverete l'articolo completo, ma noi vogliamo integrare anche queste notizie più importanti con dei video, quindi con dei filmati. Crediamo che questo sia il mix migliore, chiaramente qua sotto vogliamo sapere anche la vostra opinione. Vi aspettiamo nel gruppo Telegram, vi aspettiamo nel canale dedicato alle offerte, anche qui troverete tutti i nostri riferimenti linkati qua sotto in descrizione. Per qualsiasi dubbio, come sempre box dei commenti, noi vi ricordiamo di condividere il video, di schiacciare il tasto like, se chiaramente questo contenuto vi è piaciuto, e ci sentiamo ovviamente nei prossimi video.